È sempre stato un sogno del cassetto tornare a Cagliari. Il sogno si è avverato e per me è la gioia più grande che mi potesse capitare. Ho fatto per molti anni anche l'osservatore, giravo molto la Serie B, ci sentivamo spesso, sui giocatori che avevo visto e così via, per tanto sono sempre rimasto in contatto, sono sempre rimasto informato sulla squadra e tutto. Finché il Presidente non mi ha chiamato, non nego che sono rimasto un po' stupito, ma era una sensazione già da un paio d'anni che, come avevo detto, sogno nel cassetto che prima o poi la possibilità si avverasse e si è avverata.